Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Harvest Days, un gioco uscito da pochissimo e che costa a prezzo pieno 14,99 su Steam. Era da tanto che era in lista d'attesa, il gioco ora c'è la possibilità di provarlo e nonostante io abbia visto altri video di altra gente che ha portato questo titolo, io voglio dirvi la mia, fare qualcosa di un po' diverso, non sarà un gameplay, vi dirò il motivo per cui mi piace e i motivi per cui non mi piace. Ho deciso di lavorare un pochino il primo giorno, quindi fare il primo orticello, c'è una simpatica festa, se guardate qua siamo all'uno del mese, ogni stagione divisa da 28 giorni, siamo in primavera, poi qua in alto vedete l'estate, l'autunno all'inverno e ci sono delle cose, diciamo degli eventi che ci permetteranno poi di cambiare un po' il corso della nostra avventura. A fine giornata finisce esattamente come finisce Stardew Valley, in cui ci viene detto quanto abbiamo speso come affitti vari, quanto abbiamo guadagnato dalle vendite, quella cassa lì mi fa pensare quello che poi effettivamente è, cioè davanti a casa nostra abbiamo una cassa dove possiamo mandare la roba, abbiamo variabilità tra cui la coltivazione, la raccolta, il mining, la pesca, il riciclo, il crafting, il taglio della legna, la cucina e il mercante giare, insomma, se così possiamo definirlo. Che dire, la storia inizia che noi da piccoli venivamo in questo Dudas Village, da piccoli trovavamo i nonni e poi improvvisamente un bel giorno abbiamo visto da adulti, abbiamo visto un articolo sul giornale dove diceva che la città ormai si sta svuotando, c'è un esodo rurale in pratica, la gente va nelle città e quindi il sindaco ha offerto una casa gratuita in cambio di lavoro, di riportare agli albori questo paese e noi ci siamo calati in una nuova vita. Quindi iniziamo, lo sto giocando con il pad, lo sto giocando con la tastiera, non è comodissimo e inizio subito dalle parti negative, il gioco è legnoso, però è un early access, però è legnoso. Ovviamente poi sicuramente, adesso vedete che sto andando anche discretamente meglio rispetto alle prime volte però si incastra, cioè è veramente abbastanza legnoso. Quindi bisognerà un pochino risolvere, ma è un early access, quindi non mi sento di condannarlo solo per questo, ecco. Abbiamo il nostro orto, qua ho già spazzato via, vedete che poi con il rastrello voi potete andando sopra il quadrato, cliccando con il tasto sinistro, lui ripulisce la zona. Così come per la zappa, dove è preparato il terreno a essere piantato, questo per la raccolta, questo per scavare i sassi, le valli, in pratica come succedeva anche su su Stadio Valley, quindi poter liberare, ma in questo caso non lo possiamo fare perché dovremmo aggiornare i nostri strumenti, ma troveremo qualcos'altro da poter scavare intorno. Qua ho piantato dei rapanelli, credo, dovrebbero essere, e vanno bagnati, vanno bagnati, quindi bisogna andare a bagnare con il innaffiatoio, mancano due giorni e poi potremo raccogliere. Ci sarà anche la possibilità di mettere il fertilizzante, cosa che andremo a provare a fare oggi. Abbiamo anche la necessità di riempire, bagna i campi ogni giorno, altrimenti smetteranno di crescere. È ottimo farlo al sorgere del sole, esatto, perché non si bagnano mai le piante quando c'è il sole. Non so ancora adesso come poter riempire questo, questa cosa qui, questo innaffiatoio, in realtà sì, l'ho riempito, l'ho riempito, c'era uscito scritto drink, ma in realtà dovrei averlo riempito al lavandino di casa, quindi posso continuamente andare a... no, è vuoto, no, non ho riempito una fava. Va bene, dai, intanto, vabbè, ho anche il secchio volendo, che ho riempito, si potrebbe pensare di bagnare. Vabbè, andiamo in città e vediamo se abbiamo modo di... vabbè, qua vi fa capire che potrete prendere anche un cane o un gatto, ma la cosa carina è il fatto che, vabbè, ci sono le persone in giro, con questo mezzo qui, che non so dove vadano. Questa è la detta degli animali, mi sa. Potete noleggiare il monopattino, che tra l'altro vedete che qualche problemino c'è sempre, eh, di interazione. È un noleggio che poi dobbiamo provvedere a riportare. Andiamo in città, la sera prima, cioè quindi il giorno prima, rispetto a quello che state vedendo ora, eh, c'è stata una festa. È un gioco che punta molto sul, sulla pulizia dell'ambiente in pratica, quindi l'abilità di riciclo si tratta di raccogliere e riciclare i vari, dei vari rifiuti che troviamo in giro. È una classica cosa di... la sostenibilità e bada bada bada. Allora, intanto qua scendiamo e vediamo se possiamo fare subito il mining di questa roccia qui. Sì, questa sì. E ci salirà un pochino il mining. Quando io ho scavato per fare l'orto ho trovato anche dei vermi. Infatti premendo E vedete che abbiamo l'inventario con dei vermi e la pietra che abbiamo scavato ora. Il crafting, qua ci permette di fare torce, chest e woodworking bench. Mi servono 50 di legno e 20 di pietra. Potremmo anche lavorarci per fare questo. Comunque, qua abbiamo le skills, come ho detto sta salendo anche un pochino mining. Le missioni, dobbiamo conoscere tutti i villici. Ne abbiamo conosciuti 9 su 16, quindi dovremmo andare a trovare gli altri. Non erano tutti alla festa. Qua possiamo entrare in città, in questo negozio, dove possiamo vendere o acquistare. Io posso vendere gli vermi. non li compra? Non è interessato ad acquistare? Va bene, va bene, va bene. Dai, voglio acquistare dei semi di lattuga. Lattuga o broccoli? Caffè? Onion? Water butter? No, voglio lattuga. A 112, dai, ne compro 5. Facciamo 5. Piantiamo anche il lattughino. Va bene, andiamo? Facciamo proprio la nostra bella figura. Il monopattino stona un po' di allora. Di là c'è il bar, dove si può andare a conoscere le persone. E dalle 8 alle 15 è aperto anche il municipio dove c'è dentro il sindaco. Si potranno acquistare... Allora, non sono sicuro sui mezzi, ma sarà possibile sicuramente comprare case, comprare altri terreni. Quindi adesso ne andiamo in comune. Vediamo. È open. Quindi apriamo la porta del municipio. Questo è il sindaco. Salve! Guadagna la fiducia dei villagers e avrà i grandi amici. Si persistente. Va bene. Tutto qui. In basso a sinistra... A destra, scusate, vedete l'energia. Se noi lavoriamo tutto il giorno, la finiamo, non possiamo più lavorare. Nel senso che caderemo svenuti. Vedete? Cioè, è veramente, veramente legnoso. Il gioco... Non è che lo condanno per questo, perché sicuramente sistemeranno e diventerà un bel gioco. Però ve lo dico come nota, perché io non è che sono uno di quelli che poi va su Steam e rilascia la recensione negativa per questo. Perché... Cioè, dietro c'è un bel lavoro. Guardate la mappa. Siamo qui. La nostra casa è qui. Il mondo è questo. E si amplierà ancora, perché comunque non è di access. Quindi... Di lavoro ce ne sarà. Però, insomma... Vediamo se conosciamo qualcuno di nuovo. Poi devo andare a piantare assolutamente ste cose. Uh... No, qua non si può fare niente. Salve! Ma ci siamo conosciuti noi ieri? Birra... No. Devo capire se... Qua sopra non c'è nessuno. Questo è un po' tipo far west. Devo capire se... C'è un pozzo in città dove poter riempire il innaffiatorio. O meno. L'ospedale. L'abbiamo trovato. Qua si esce dalla città e vedete che lì dietro c'è in vendita. C'è un... Andiamo a vedere anche i prezzi. Perché questa qui è un'area evidentemente edificabile. C'è un tizio col trattore là in fondo. Vedete qua possiamo scegliere che cosa costruire. Ci chiede 50.000 più i materiali. E possiamo costruire questa casa. Molto bello. Come cosa? Cioè... C'è tutta... È un'ottima ricetta per un gioco rilassante. Quindi state solo attenti a questo discorso del legnoso. Il fatto che col pad rende meglio. Dicono. Io lo gioco così. Questo sta lavorando tranquillamente. Sta innaffiando tutto con l'irrigazione automatica. Vado a conoscerlo se non lo conosco già. Salve. No sta lavorando non... Però che bello. Se si può fare tutto questo... Perché no? Poi il mio punto di vista... Adesso... Se vi piace la tipologia di gioco... Beh... Potete prendervelo e giocarvelo. Se... Insieme a questo... Non vi dispiace giocare un gioco che comunque ha tutti i contenuti base. Perché gli sviluppatori hanno detto... Hanno scritto che... Il core del gioco c'è. Possono solo aumentare le cose. Ma non c'è una... Una vera feature del gioco che è bloccata. Che non funziona. Funziona tutto. Quindi... Posso prendere un po' di pietra che volevo provare a fare la lavorazione del legno. Si può pescare. Come vedete ci sono i pesci nel fiume. Non mi ricordo quanti devo farne. Adesso mi scavo anche questo e poi vediamo. Clay. Anche silver. Abbiamo trovato che possiamo vendere. Se non so se lo possiamo vendere dalla... No. 14. Crafting. 20 stone. E 50 di legno. Quindi non bastano ancora. Non bastano. Allora. Vediamo un po'. Dove dobbiamo andare? Di qua. Possiamo già attraversare da questa, credo. Senza finire nel fiume. E prendiamo su a casa. Salve! Col monopattino. Allora, diamo un'occhiata anche a questo adesso. Voglio scendere. Voglio scavare qui. Non me lo scavi? Perché? E se era un po' perso via. Ok. 3, 4. Quanti ne abbiamo? 18. Mannaggia. Vabbè, tagliamo l'albero. 50 di legno mi servono. Sono un po' tantini per fare un tavolo di... Però vabbè. Lavoriamo finché possiamo qua. Tanto non corre dietro nessuno. Cioè possiamo prenderlo col nostro ritmo e... E tagliare queste betulle e... Abbattere alberi come se non ci fossero domani. Asfaltare tutto, no? Non vado neanche a esplorare gli altri luoghi perché me li scoprirò comunque pian piano con calma. Non ha senso correre e farvi vedere tutto. Cioè la grafica mi ricorda un pochino quella di Wildlands o tutto quelli un po' low poly. Non è male. È proprio il movimento. Col pad... Dovrei provarlo col pad e dovrebbe comportarsi meglio. Ma onestamente a me non va molto di... Di giocarmi una cosa del genere dove comunque devo avere a sott'occhio tutta la gestione del campo. Cioè non me lo voglio godere come un... Gioco la console. Gioco col mouse, fine. Ma... Quindi... Non c'è durability qua ma... Vabbè, abbatterò questo e poi andiamo perché... Direi che abbiamo finito praticamente le energie. Sono le 7 e le 8 di sera adesso quindi direi che... Ok. Abbiamo preso stone. Andiamo. Vediamo un po' l'inventario. 22. Legna 20. Dai, domani magari... Adesso prendo il monopattino e andiamo là verso casa. Taglio ancora qualche alberello. Domani proviamo il crafting. E ci sono tante, 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 tante cose da scoprire. Quella casa nostra. Quindi magari abbattiamo gli alberi qui. Stop. Scendi, scendi, scendi. Abbatti anche questi. Tanto. La pietra ce l'abbiamo. Stanchi, siamo stanchi. Facciamo almeno metà del legno che ci serve. Sì, sì, sì. Perché di solito in... Quei giochi tipo Stadio Valley si aveva un malus. Si portavano a casa, credo. Però vabbè. Ok, dai, andiamo. Portiamo a casa il monopattino. Cioè, va rimesso a posto. Non so poi che malus effettivamente ci dia, se non lo mettiamo a posto. Mettiamo qua in carica. Tutto bello. Poi, quelle cose che si basano, aggiungendoci dentro, si basano sul relaxer, più sul politicamente corretto, mettendoci pannelli solari, riciclo. Mi sembrano un po' forzati. Comunque, proviamo a metterci dentro il silver ore. 15 monete ci dà. Abbiamo trovato anche della SAP e la resina. Allora, diamo un'occhiata. Ah, no. Non... Eh, vedete, anche adesso non mi apre più il... Ok, non mi apre più il menu. Allora, legno 30, 22. Ok, dai. Andiamo a dormire. Sleep. Vediamo cosa è successo. Vediamo le skill. Abbiamo guadagnato 15 vendendo quella... Quella fare lì. Il silver. E andiamo avanti. Save game. E ripartiamo dal giorno successivo, dove ci alziamo e ci mettiamo subito all'opera. Subito al lavoro. La casa è spoglia, non so se poi sarà possibile riempirla o si riempirà andando un pochino a lavorare. Ah, non abbiamo guardato la posta ieri. Rachel. Ho notizie per te. Nuovi animali sono arrivati. La version. Sì, questo è... Dovresti venire alla spiaggia qualche volta? Possiamo parlare per un po'. E Fishing Store. Fishing Store sarà sì qua in fondo, sì. Vabbè, ma... Vabbè. Mi ricorda molto anche My Time at Porsche. Ma... Tra l'altro quel gioco sta per avere un successore. Perché si chiamerà My Time at Bedrock. Una roba del genere. Che sarà poi una sorta di seguito. E seguo anche quello con estremo interesse. Allora, adesso proviamo a fare questo tavolo per il legno. Mi specializzerò nel taglio del legno. Mannaggia, devo andare anche a tagliare le cose. Ma non so onestamente come riempire però il naffiatorio. Mi sembra assurdo non poterlo riempire. Adesso poi ci diamo anche un'occhiata. E abbatto questi alberi qui. Poi proviamo a riempirlo. Perché se no, non è che vada male. Non è un simulativo. Però la crescita si ferma delle colture. E a me serve continuare. Ho anche le piante nuove da poter, da dover piantare. Quindi Kikobara vende drink e i piatti cucinati. Apre. Non mi sembra che ci sia fame o roba del genere. Adesso vediamo questo. Io prendo l'innaffiatorio. È empty. Non riesco a capire. Non riesco proprio a capire. Kikobara Scusa se io metto qui. Metto qui. No. Non lo so. Se qualcuno poi lo sa me lo dica. Insomma che potrebbe cambiarmi la vita. Allora, dai. Facciamo l'ultimo. Perché generalmente uno lo riempie al pozzo. Però anche se entra nel fiume con tutto il corpo lo riempie. Non è che... Va bene, dai. Siamo pronti. Possiamo provare a vedere come funziona il crafting di queste cose. Vediamo un po'. Salta. No, non ha preso olio cuore, evidentemente. Poi vabbè, questa è tutta la nostra farm. Quindi è enorme. Potremmo anche... Cioè, mi sarebbe piaciuto forse partire da qualcosa di un po' più piccolo. Giusto per avere la soddisfazione dopo di comprare, edificare. Vale, vai. Ma va bene. Allora, scuola, se io vendo questo... Ah, ok. Farma. Ok, mi sta dando tutti i suggerimenti. Allora, crafting. Possiamo fare la woodworking bench. 20 pietre, 50 legno. Ce l'abbiamo? Non hai i richiesti. Perché non ho i richiesti? Perché ho 45 di legno. Che palle! Pensavo di aver tagliato tutto. Non li ho raccolti? Sono così cretino? Allora... Vabbè, abbattiamo anche questa. Allora, dai. Betulla. Lasceremo... Ma fortunatamente piove. Fortunatamente piove, quindi le colture si bagnano per i fatti loro. Va bene, dai. Dai. Sì. Ole. Allora, adesso facciamo il nostro tavolino da lavoro. Dai, vai. No, primo la C pensando sia il crafting di Starbound, ma non lo è. Tra l'altro, ogni tanto, non so perché, la I non risponde. Devo premere F che corrisponde, però è questo. Ma vabbè, questo è un bug. Craft. You don't have the required... Ho richiesto 50 di legno. Ma che cacchio stai dicendo, 50 di legno? Cioè, io non ho il legno? Sì. 55. Me li ha divisi lì? Vabbè, io non lo so. Come mai? Però adesso me lo dà. Vabbè, me li aveva divisi. Non lo so. Ho craftato questa. Adesso, qualora io volessi piazzarla, la metto qui. E la posso mettere? No. La metto giù? Ok, sì. Sì, sì, sì. Interessante. Vorrei metterla magari qua. Vediamo se me lo lascio fare. Vai. Ok. Move. E ci sta. Ma io cosa me ne faccio di straffare qui? Cioè, io ho speso un sacco di... Ah, di là. Ok. Che cacchio. Ma... Ah, no, me la... Mamma mia. Continua. L'ho messa sbagliata. L'ho messa dalla parte sbagliata. Adesso la metto qui. Provo mettere da qui. Posso usarla da qui. Sì, on. Ok. Qua ci amplia il crafting per cose che al momento non sono molto utili. E se non pensare di fare una staccionata con queste cose qui. Quindi nel craft 2. Ho fatto due staccionate. La venata è che... Ok. Allora. Inventario. Due staccionate le prendo qui. E le metto magari vicino al campo. Tipo... Voglio metterle... Scusate ma le seleziono. Ok. Me le mette. Ma non me le fa mettere. Perché non me le fa mettere? Confirma. Così. No. Evidentemente non gli piacciono. Comunque qua il campo è bagnato. Un giorno cresce. Carino. Come cosa. Sarà da vedere come andare avanti. Insomma. Ci sono diverse ore da passare su questo titolo. Prima di comprenderlo a pieno. Spero di avervi dato una buona panoramica. Vi ho detto quelli che sono i miei disagi. Che mi provoca questo gioco. È legnoso. Però c'è qualcosa dietro. Comunque c'è niente di originale. Quello no. A parte questa cosa Echo. Quindi non è niente di originale. Però se avete spolpato Stardew Valley. O non vi va quella grafica lì. Non vi piace la grafica di altri giochi. Harvest. Coso. Volete qualcosa di un po' più... Di questo tipo. Un po' più moderno forse. Questo Harvest Days può essere interessante. 14,99. Il giorno dell'uscita. Proprio qualche giorno è stato a 11 euro. Controllate se vi interessa. Se costa il prezzo giusto. Sì. Calcolando che resterà in early. 6 o 9 mesi. Quindi fino a fine anno. Inizio anno prossimo. Ma già il gioco di base c'è. Con diverse... Con tutte le features. Cioè mancano nuovi luoghi. Nuovi abitanti. Nuove attività. Nuovi mezzi. Ci sono i mezzi. Quelli a motore o meno. Non so direvi se hanno benzina. O cosa. A livello simulativo. Quei mezzi. Quello non lo so. Se avete info. Fatemeli sapere. Che sono curioso di saperle. E fatemi sapere anche se il gioco vi è piaciuto. Detto questo. Io vi ringrazio. Vi saluto. E vi rimando al prossimo video game play. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. Ciao.